Foracci bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che non è mai stato interrotto. Questo ritorno ricchissimo in realtà non è casuale perché si tratta di un periodo bello in cui mi sento pieno di energie e pieno di cose da dire. Da quando ho fatto la maratona mi sono tolto un bello stress e quindi adesso ho tantissimo tempo in più da dedicare alla creazione di contenuti ma anche tante energie sia fisiche che mentali da investire in questo mio lavoro sull'internet. Avrete notato che sto aumentando parecchio l'output sul canale e quindi secondo me c'è spazio, soprattutto perché ho voglia, di far tornare anche il Porocast. Anche perché sì, sicuramente è un periodo dove stanno succedendo tantissime cose a livello di rumor, notizie ufficiali, c'è parecchio fermento all'interno dell'industria però allo stesso tempo ho anche parecchie idee molto fighe per quanto riguarda video riguardanti non per forza le notizie del momento ma più argomenti tipo retro gaming, approfondimenti eccetera eccetera. Quindi insomma ho parecchie cose da dire e inoltre io ho sempre paura di esagerare con la produzione di contenuti di passare un po' per uno spammone che si ripete all'infinito in realtà iniziando a testare anche il pubblico su TikTok, Instagram oltre che YouTube mi sono reso conto che il bacino di utenza è bastissimo e cambiando modalità espressiva in realtà non si va ad appesantire il pubblico ma in realtà si raggiungono proprio delle nicchie completamente diverse quindi chi fruisce i reel è diversissimo da chi fruisce gli shorts su YouTube ed è diversissimo da chi guarda i TikTok tanto che lo stesso video, anzi lo stesso video corto fa dei risultati completamente diversi sulle tre piattaforme tra l'altro su TikTok i contenuti PlayStation vanno molto più forti vabbè e quindi il pubblico dei video corti è diverso da quello dei video da 8-10 minuti che a sua volta probabilmente è molto diverso dal pubblico che appunto si impegna a guardare anzi ad ascoltare un podcast come questo che dura la mezz'ora fino a un'oretta userò questo spazio principalmente per fare un po' il recap della settimana approfondire quello che abbiamo detto magari aggiungere qualcosina commentare al volo delle notizie che magari mi sono sfuggite o che non ho avuto tempo di trattare nei TG Poro che comunque manterranno sempre la frequenza di 1-2 episodi a settimana state tranquilli il TG Poro non sparirà mai e poi inoltre userò lo spazio finale per dirvi un po' quali sono i programmi futuri per questa settimana e per le prossime per quanto riguarda proprio i contenuti sul canale quello che vi potete aspettare e quello che non vi dovete aspettare come al solito comunque vi lascerò i timestamp qua sotto per saltare agevolmente da un argomento all'altro niente possiamo iniziare non metto neanche la sigla però come al solito ringrazio Otogi Retro Games per sponsorizzare questo video vi ricordo che se volete vincere un gioco gratis potete partecipare al giveaway su Instant Gaming trovate il link in descrizione e inoltre niente vi invito a fare tre semplici cose ascoltatemi ascoltatemi di nuovo e poi datemi i sordi bene ho detto tutto e possiamo iniziare io mi sono fatto dei mini appunti e vabbè ovviamente si parte dal il recappone di quello che è successo con Nintendo Switch 2 il leak del prototipo i rumor su un possibile reveal eccetera eccetera allora nel caso non si fosse capito io penso che le immagini che sono uscite fuori sono abbastanza verichiere però vale sempre la precisazione che abbiamo fatto nel video dove ne abbiamo discusso ovvero rendiamoci conto che non sono dei render ufficiali ma sono dei render fatti da tizio cinese X di cui non sappiamo assolutamente nulla che dice di aver visto il prototipo e di aver ricreato i modelli 3D su quello che ha osservato lui però non è che è stato trafugato un documento ufficiale da parte di Nintendo quindi non abbiamo la certezza assoluta che quello che è stato mostrato sia un prototipo ufficiale e soprattutto va ricordato assolutamente che si tratta di un prototipo che è datato se non sbaglio dicembre 2023 quindi le cose nel frattempo potrebbero essere cambiate anche perché non so come faccia a saperlo la gente ma a quanto pare siamo arrivati addirittura due iterazioni successive rispetto a questo prototipo che è indicato come X6 a quanto pare ripeto non so come fanno a saperlo ma Nintendo in questo momento e quindi probabilmente il modello che andrà in produzione è il prototipo X8 quindi appunto due modelli successivi a quello che è trapelato e quindi le cose anche se ufficiali anzi anche se riproduzioni di roba ufficiale potrebbero essere cambiate nettamente rispetto a quello che sarà poi il prodotto finale ho trovato molto interessante però un video di cui non sono riuscito a discutere in un TG Poro che mi sarebbe piaciuto far uscire venerdì poi ho pensato vabbè lo faccio uscire sabato e niente siamo arrivati a domenica a questo punto ve lo racconto adesso in questo PoroCast ve ne ho parlato in un reel di questo video dove praticamente una content creator cinese ha trafugato anche lei in netto anticipo i file del prototipo e ha fatto una stampa 3D su dei render sempre amatoriali che però si basavano su quelli che a quanto pare sono immagini ufficiali documentazioni ufficiali eccetera eccetera allora è un video molto utile perché vi ripeto non si tratta di un modello ufficiale né di un modello funzionante è semplicemente una stampa 3D di quello che è il prototipo che è stato trafugato però è molto utile perché ci dà un'idea delle dimensioni della console che come mostra bene la youtuber mettendola a confronto con altri device portatili fa capire che è molto più grande di una Switch base di una OLED ed è più nel diciamo verso il territorio di una Steam Deck e anche di una PlayStation Portal come dimensioni generali quindi vabbè non si tratta chiaramente di una console portatile che vi mettete in tasca nel caso fosse questo il modello l'idea comunque che traspare è quella di una console estremamente conservativa sembra effettivamente una Switch ingrandita che potrebbe aggiungere ben poco a quella che è l'esperienza di gaming fornita e abbastanza rivoluzionaria con il primo modello di Switch va bene non va bene si perde la Nintendo Difference di questo abbiamo parlato in uno shorts mi sembra di capire che alla fine l'idea più diffusa tra tutti quanti è che non bisogna innovare per forza a tutti i costi comunque il concept di Switch è rivoluzionario e ci sta a reiterare sugli stessi concetti sulle stesse potenzialità però rendendole ancora più fruibili questo per me va benissimo ho trovato un po' azzardati i paragoni che dicono ad esempio che tra la generazione Wii e Wii U non cambiava assolutamente nulla come si fa a dire che Wii U è una Wii potenziata quando cambia completamente il modo in cui si sperimenta il gaming tramite appunto il paddone posso starci tra DS e 3DS più che altro perché Nintendo stessa alla fine ha abbandonato praticamente subito il concetto di 3D stereoscopico all'interno della sua console però insomma si ci sta che dopo una console di successo si continui a battere il ferro finché è caldo anche se ormai sono passati più o meno 7 anni da quando il ferro è stato scaldato quindi insomma forse si arriva anche un po' a ritardo però tutto questo non esclude il fatto che ci sia un nuovo espediente all'interno della console che la differenzi da quello che è avvenuto prima quella che voi giovani chiamereste gimmick e qui quello che c'è da capire è che la youtuber propone delle soluzioni ma che sono solo congetture non è che lei ha delle informazioni prima degli altri o ha sentito delle cose o ha accesso ad altri rumor cioè lei semplicemente oltre a far vedere la console fa un po' il riassunto di tutto quello che pensiamo di sapere della console e poi ci aggiunge pure del suo dicendo secondo me sarà così quindi non prendete assolutamente come un rumor o un leak o oro colato queste cose perché semplicemente è un ragionamento suo tradotto tra l'altro con i sottotitoli in inglese quindi non sappiamo neanche se è corretto però vabbè quello che aggiunge lei è una prospettiva inedita e dice che in realtà il secondo tastino sotto il tasto home del joy-con destro serve in realtà a visto che riporta sopra una C chiamare il collegamento alla camera da inserire proprio sulla USB-C nuova quella che si trova sulla parte superiore quindi sostanzialmente si dice ci si potrà attaccare una camera che registrerà in modo ancora molto più accurato i movimenti motion control dei joy-con per avere così un effetto simile a quello che si è visto su Wii e la precisione del Wiimote soprattutto del Wiimote Plus come prospettiva è boh figa abbastanza interessante però non so se mi renderebbe felice una cosa del genere cioè ripetere quello che abbiamo visto con con Wii sapete che sono abbastanza critico di quell'era non sono uno dei più grandi fan però staremo a vedere si parla tanto del possibile della possibile funzionalità di una sorta di casting dell'immagine video tramite streaming quindi quella C sul joy-con sia una sorta di tasto per proiettare quello che c'è su su tablet verso lo schermo però insomma ragazzi tecnologie del genere sono costose e ancora abbastanza cerbe io non so se nintendo riesca a implementare in una console che comunque deve essere venduta al grande pubblico quindi che non può avere chissà quali tecnologie all'avanguardia perché se no altrimenti costerebbe troppo non so appunto se si riesca a implementare in modo funzionale una cosa del genere quindi come al solito prendete tutto quanto con con le dovute precauzioni e parla parla anche di un possibile reveal a ottobre il meta sembra essersi spostato verso quella data anche perché durante il Tokyo Game Show difficilmente Nintendo farà un annuncio del genere quindi possiamo sempre pensare in un annuncio imminente a ottobre anche perché ragazzi poi ci si avvicina un po' troppo alle vacanze di Natale poi se si scavallano le vacanze di Natale ci si avvicina probabilmente un po' troppo a un possibile a una possibile pubblicazione della console durante i primi mesi dell'anno quindi marzo-aprile quindi prima o poi sta console dovranno farla vedere si muove tanta roba dietro le quinte quindi direi che ci siamo bisogna pazientare ancora un po' io ancora non sono d'accordo con il fatto che annunciare adesso una Switch taglierebbe una nuova Switch taglierebbe le vendite di Switch 2 secondo me le due cose possono coesistere anche perché probabilmente saranno due progetti in netta continuità quindi uno secondo me non escluderà automaticamente l'altro dal mercato ed è anche una cosa che si è vista poi secondo me durante quando è stata annunciata la Switch comunque il supporto a 3DS è continuato sono stati annunciati dei bundle forse addirittura il 2DS è arrivato l'annuncio è arrivato dopo il reveal di Switch ma qui dovrei ricontrollare insomma per me c'è ancora spazio per un reveal ottobre direi che le speranze di un direct di settembre sono abbastanza sfumate visto che la settimana prossima ci sarà il Tokyo Game Show quello che però non è affatto sfumato anzi è un'ipotesi molto vivida è la possibile presenza di un state of play di Sony la prossima settimana fermi tutti prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video Otogi Retro Games tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otogi Retro Games il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming sul catalogo di Otogi che si aggiorna ogni settimana potrete trovare di tutto giochi provenienti da ogni epoca e console dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi ma la cosa più importante è che Domenico di Otogi sa il fatto suo è un grandissimo appassionato sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione sono queste le cose che per me fanno la differenza poi se volete liberarvi di qualcosa Otogi offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno in descrizione trovate il link al sito mi raccomando guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate grazie ancora a Otogi Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti e niente Jeff Grabb ha fatto sapere che al 90% il 24 cioè questo martedì ci sarà uno State of Play di Sony quindi dedicato principalmente alla line-up di PlayStation 5 dove si spera verranno presentati nuovi giochi magari anche qualcosa da accompagnare a PlayStation 5 Pro però state attenti perché anche di questo abbiamo parlato in Oshorts ieri sera state attenti perché i nuovi giochi presentati potrebbero uno non essere poi così nuovi due non essere poi così interessanti questo perché è molto molto probabile che ci sarà l'annuncio di due diverse remaster all'interno di questo State of Play che saranno appunto la remaster di Horizon Zero Dawn questa addirittura è stata alliccata sul sito delle SRB ha ricevuto il rating per quanto riguarda l'età consigliata di vendita quindi prima o poi verrà annunciato e questa qua potrebbe essere l'occasione perfetta e poi c'è anche la probabilissima remaster di Days Gone un titolo che insomma non è che ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan in realtà è stato apprezzato da chi l'ha giocato non è stato proprio un campione di incassi però la cosa particolare è proporre una remaster di un titolo che sappiamo non ha soddisfatto Sony internamente in più ci sono stati anche degli screzi con Band Studio perché a un certo punto era stato picciato il sequel del gioco che poi però non si è più fatto non si è fatto niente perché ci sono state delle tensioni interne tra appunto Sony e gli sviluppatori Band Studio ma al di là di questo c'è che è un po' strano ripescare questa la carta di Days Gone quando appunto ci sono remaster molto molto più richieste da parte dei fan l'esempio l'esempio che ho fatto è quello di Bloodborne la cosa insomma un po' più assurda è rendersi conto che si tratta di due giochi recentissimi Horizon Zero Dawn è uscito nel 2017 ed era già un titolo ottimizzato per PlayStation 4 mentre Days Gone è uscito 5 anni fa e entrambi sono perfettamente giocabili tramite retrocompatibilità su PlayStation 5 inoltre l'open world a tema moto e zombie è stato anche ottimizzato con una patch next gen quindi già gira benissimo sull'attuale generazione di Sony insomma queste due produzioni si inseriscono in un modo di fare un modo di intendere la line-up di PlayStation che insomma non è proprio soddisfacente al 100% una generazione da parte di tutti quanti i grandi produttori videogiochi che è stata proprio intasata da remaster riproposizioni Nintendo ci ha fatto metà della sua fortuna riportando titoli 3DS e in particolare Wii U su Switch però anche Sony sta calcando parecchio la mano soprattutto dopo che c'era stato il primo iniziale claim We Believe in Generations improvvisamente poi questo è stato completamente dimenticato anzi si è fatta una marcia indietro proprio clamorosa e quindi dopo le remaster e le definitive edition di The Last of Us parte 1 parte 2 tutta riproposizione dei vari titoli anche mainstream che però sono dovuti arrivare su PC e quindi se ne approfittati per fare delle versioni enhanced come diremmo noi americani insomma c'è un po' la sensazione che ci si affidi un po' troppo a queste operazioni per rimpolpare e fare numero ovviamente uno spera sempre venga annunciato qualcosa di nuovo che ci sia sempre l'astrobot di turno a salvare la situazione però insomma la vedo la vedo un po' difficile staremo a vedere in caso comunque la seguiremo sicuramente dal vivo qua sul canale youtube quindi mi raccomando nel caso venisse annunciata non mancate così almeno potremo rimanere delusi insieme quello che invece non mi ha deluso ma invece mi ha proprio fatto dire maledetti hanno vinto di nuovo ci hanno fatta di nuovo è la presentazione della linea celebrativa dei 30 anni di playstation del brand playstation che assume la forma principale di delle versioni celebrative di tutto quanto l'ecosistema playstation 5 che andranno sicuramente a ruba io le ho scoperte in live potete trovare il vod su twitch ho avuto una reazione proprio da da un lato di mente perché tenta tantissimo una roba del genere ora ce la vediamo per bene però secondo me ci sono dei pro e contro quindi celebriamo i 30 anni playstation con un look nostalgico allora per chi è cresciuto come me negli anni 90 ritrovarsi questo grigio topo e il logo colorato i tasti colorati come devono essere colorati quelli da prima playstation fa proprio un effetto della madonna e niente automaticamente hanno già venduto tutto quanto la cosa interessante è che rispetto all'operazione che hanno fatto dieci anni fa per il ventesimo anniversario qui si tratterà invece di alcuni bundle per esempio playstation 5 pro e questa è la vera bastardata sarà venduta solo all'interno di un bundle e la console sarà numerata ne esisteranno 12300 copie in tutto il mondo sto facendo vedere dove è posta la numerazione che è sulle tre linee trasversali un po' alla adidas che attraversano il modello di playstation 5 pro quindi ce ne saranno 12300 modelli ma non è che potrà essere acquistata così singolarmente ma andrà acquistata una sorta di pacchetto bundle che comprenderà oltre alla console anche un dual sense edge una base di ricarica dove mettere il dual sense venduto insieme alla controller e il dual sense edge poi una copertura per il lettore disco ottico che andrà comprato a parte ma a quel punto poi potrà essere coperto con il giusto colore grigio dopo smorto per non avere l'effetto insomma strano di ritrovarsi la console grigia e poi il lettore bianco e poi vari gadget celebrativi a quanto pare c'è anche un poster ma non qui non è stato mostrato né nel video di presentazione né in queste immagini bellissimo il cavo di ricarica del dual sense che riprende le forme del connettore della prima playstation pur rimanendo un usb c vabbè sono delle cose che proprio mi fanno impazzire per quanto mi riguarda non solo sono riusciti a rendere bella pure la pro che è una schifezza il dual sense edge non mi fa impazzire neanche così però la portal spacca di brutto e ci sono però diversi problemi per quanto riguarda questo bundle innanzitutto sarà venduto in preorder a partire dal 24 anche questo che tra l'altro è il giorno stesso in cui apriranno i preorder anche per l'edizione base della playstation 5 pro e immagino insomma che il sito direct di playstation creperà automaticamente nel momento stesso in cui li apriranno penso sarà proprio impossibile prendere questo bundle magari sarà più semplice prendere le cose singole perché per esempio il dual sense verrà venduto singolarmente la portal verrà venduta singolarmente e anche la slim verrà venduta singolarmente però mi immagino che il sito morirà proprio subito e i reseller saranno pronti a mettere in tempo record il bundle della pro su ebay al triplo del prezzo tra l'altro vi faccio notare questa cosa anche per la versione europea sono stati confermati dei packaging che ricordano la prima playstation tra l'altro grandissimo tocco di classe riprendono il giallo che era proprio tipico delle confezioni che arrivarono da noi continuo a non capire perché il bundle super mega figo della pro lo hanno fatto bianco così che non c'entra niente con la prima playstation o mi sto perdendo qualcosa io oppure boh proprio cioè avrei preferito un qualcosa di molto più in linea con gli altri bundle meno premium tra l'altro io non so se questi altri bundle cioè non sono numerati la playstation 5 slim trentesimo anniversario non è numerata però quante ne produrranno una volta finita boh diventerà rara questo non lo so di sicuro il pezzo raro sarà questo qua ma il prezzo il prezzo ancora non si sa e ho paura ho paura perché se uno si va a fare un rapido conto comunque stiamo sopra i 1200 prendendo i prezzi di listino ma poi il rincaro per questa cosa celebrativa per la presenza di tutti i gadget secondo me siamo veramente a rischio di ritrovarci una roba da 1500 euro che insomma diventa proprio un investimento io la prendo non la prendo sarei tentato di provare a prenderla probabilmente non ho i soldi però indebitarmi a vita cioè più che altro mi piacerebbe fare un unboxing della cosa però se uno se la compra per fare l'investimento aprire la console sarebbe proprio una cazzata di quelle clamorose perderei metà del valore di rivendita in un futuro fare tutto cioè bruciarmi così tanti tanti soldi solo per il content non sarei molto contento di farlo quindi non lo so però comunque devo dire che Sony a differenza di Nintendo quando c'è da giocare con il fattore nostalgia porca troia ci riesce proprio in un modo clamoroso e anche io che sono stato super critico del progetto estetico PlayStation 5 e soprattutto PlayStation 5 Pro davanti a una cosa del genere vacillo ma tanto vedremo il prezzo sarà fuori di testa e niente lo lasceremo andare così passiamo al prossimo argomento e volevo parlarvi di Goti 2024 questa settimana uscirà mi viene Tears of the Kingdom ma chiaramente è Echoes of Wisdom ma so che molti piratozzi tra di voi già ci stanno giocando e volevo aprire un attimo una discussione su quello che secondo voi è il probabile Goti 2024 perché siamo partiti che sembrava un anno abbastanza smoscetto poi in realtà sono iniziati ad uscire delle cose impressionanti e questa riflessione mi è uscita fuori perché in questi giorni mi è stato regalato da uno di voi gentilissimo UFO 50 cioè mi ha detto oh devi assolutamente giocare UFO 50 perché è un titolo di cui stanno parlando tutti quanti benissimo uscito proprio adesso effettivamente vedete il metascore è di 91 lo devi provare sembra un trip assurdo mi sono preparato il trailer qua in sottofondo che lascio andare anche se è un po' croppato praticamente cos'è UFO 50 è un concept stranissimo messo in piedi da un collettivo di sviluppatori capitanati da Derek Yu che è il padre di Spelunky che è un po' una superstar della scena indie ed è praticamente una collection di 50 giochi che sono uniti tra di loro tematicamente come se fossero stati fatti negli anni 80 da una casa di sviluppo specifica per una console che non è mai esistita e sostanzialmente questi 50 giochi raccontano l'evoluzione di questa etichetta di publishing ma anche di come si è evoluto il videogioco proprio anche a livello tecnico all'interno di questa di questa console la cosa particolare però è che non si tratta di una collection di mini giochi come ci si aspetterebbe da un titolo del genere ma si tratta di 50 giochi fatti e finiti molti circa la metà anzi proprio la metà possono essere giocati in multiplayer in locale sia in modalità cooperativa che versus poi gran parte di questi sono indicati come quick play ovvero sono degli arcade con l'icecore insomma la classica cosa anni 80 mentre altri sono indicati come epic play e quelli sono dei giochi con i save state e sono dei titoli a tutti gli effetti che possono richiedere anche decine di ore per essere completati e i generi spaziano da qualsiasi cosa cioè c'è l'arcade c'è il run and gun c'è il contra like l'rpg c'è il tattico c'è lo strategico ci sono metroidvania ci sono puzzle game cloni c'è un clone di di snake pazzesco proprio su cui ho perso già tipo due ore di gioco le avventure grafiche i punti e clicca c'è tutto ed è una collection mastodontica che probabilmente ma neanche per essere completata c'è già solo per vedere tutti e 50 giochi e capire più o meno se possono interessare capire quello che hanno da offrire uno probabilmente ci perde sopra un centinaio di ore ed è una cosa assurda io ho iniziato a giochicchiarci ci avrò fatto tipo tre ore quattro ore ma è una cosa assurda proprio e non tra l'altro sono giochi semplici perché tutti quanti al massimo utilizzano la croce direzionale e due tasti ma non per questo sono banali alcuni nascondono una complessità dietro e una difficoltà inaspettata come erano poi i giochi negli anni 80 ed è una sorta di collezione di titoli indie per hardcore gamer a tutti gli effetti e niente questo però mi ha fatto mi ha fatto riflettere sul fatto che cioè ma UFO 50 se non me ne avesse parlato appunto questo poraccio doc che ringrazio ancora tantissimo per il regalo ma chi lo avrebbe mai sentito questo mi era completamente sfuggito dai radar e quindi volevo fare un attimo il punto della situazione su quello che è stato il 2024 e quello che deve ancora essere il 2024 guardandoci un attimo i giochi meglio recensiti di quest'anno e chiedervi quale qual è secondo voi il gothi cioè il gioco con cui vi siete divertiti di più in assoluto per esempio io i DLC di Elden Ring ancora non ho giocato Astrobot l'ho adorato platinato l'avete visto ma non so se è il mio gothi ci devo ancora riflettere Final Fantasy VII Rebirth altro titolo assurdo che però non sono riuscito a finire UFO 50 abbiamo appena parlato Animal Well ecco questo forse nella sua semplicità lo metterei anche sopra Astrobot un Metroidvania difficilissimo ma pazzesco Satisfactory non ne avevo mai sentito parlare Balatro ho superato le 110 ore di gioco una droga pura incredibile mi rifiuto di commentare della sto ass parte 2 remastered Thank goodness you are here a quanto ho capito è un gioco in stile Monty Python con un umorismo inglese che probabilmente noi italiani non riusciremo mai a apprezzare Tekken 8 stra apprezzatissimo dai fan dei fighting game poi c'è Horizon Forbidden West DLC Like a Dragon Infinite Wealth forse l'avrei messo così alto Castlevania la collection dei giochi di esse è stata stra apprezzata dai fan ve ne volevo parlare ma non ho avuto proprio tempo fisico di giocarci Lorelai e The Laser Eyes dicono sia un'avventura grafica pazzesca piena di enigmi ultra stimolanti il remake di Paper Mario è insomma un ritorno graditissimo all'interno della libreria Switch poi c'è il remake di Persona 3 il Vengeance di Shin Megami Tensei ma anche andando a pagina 2 a pagina 3 ci sono tantissimi titoli ecco Prince of Persia uno dei migliori metroidvania che abbia giocato negli ultimi anni io questo lo metterei forse in top 3 dei miei giochi dell'anno c'è il discussion Dragon's Dogma 2 che ha fatto discutere tantissimo Braid che è tornato con un'edizione fuori parametro possiamo andare avanti all'infinito proprio sono tantissimi i giochi che non ho avuto modo di provare tra l'altro qui non compare neanche Wukong non so perché altro titolo per me da top 3 su cui mi sono infognato completamente Crow Country l'ho solo iniziato ma sembra un survival horror nostalgico fatto proprio bene 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 The Plucky Squire sta facendo parlare tantissimo di sé Dead Rising Remastered tutti i social mi hanno flaggato il video perché con contenuti non appropriati ma vi garantisco che è proprio una remaster bomba di un titolo fantastico insomma si potrebbe andare avanti all'infinito ditemi nei commenti secondo voi ovviamente aspettando Zelda per carità sia mai quali sono i vostri papabili goti quali sono i tre giochi dai che più quest'anno vi hanno intrattenuto spappolato il cervello divertito e sorpreso no interessante sono curioso di sapere quali sono le vostre scelte anche perché così Mari scopro altri giochi così come mi è capitato di scoprire UFO 50 che comunque vi consiglio di provare e per chiudere ragazzi torno a tutto schermo vi voglio parlare al volo di progetti futuri di quello che succederà queste settimane questi mesi sul canale allora ho trovato un buon ritmo produttivo per quanto mi riguarda e ho deciso che continuerò a provare a fare tre video a settimana lunedì mercoledì e venerdì e mettendo il martedì e il giovedì delle live su Twitch come ho fatto nell'ultima settimana live pomeridiane serali in cui mi sto divertendo tantissimo il pubblico continua a crescere e insomma prendetele come un po' questi porocast si parla delle notizie del momento ma poi si cazzeggia tantissimo su Twitch mi sento molto più libero di esagerare e di essere un pochino più me stesso meno imbalsamato meno istituzionale quindi questa sarà la struttura ovviamente se non esce il video sul canale comunque esce almeno uno shorts ultimamente sono riuscito a farne uscire anche due giornalieri è un tipo di contenuti che comunque aiuta parecchio il canale a stare a galla senza che io mi debba impegnare in dei video da 20 minuti ci sarà probabilmente la live su YouTube per seguire lo state of play questo martedì aspettiamo soltanto che ben annunciata per quanto riguarda produzioni video ho già fatto un bello spoilerone all'interno del Patreon ma in settimana volevo farlo lunedì ma probabilmente non ci riuscirò lunedì arriverà un TG Poro per parlare appunto di cosa aspettarsi dallo state of play però diciamo mercoledì probabilmente farò il resoconto del Game Vintage Market preso della roba assurda proprio incredibile e insomma mi farò un po' il resoconto degli acchiappi retro gaming che ho fatto però questa volta mi dispiace dirvelo non parlerò di soldi non parlerò di quanto ho pagato le cose perché mi rendo conto che è diventata una cosa inutile perché comunque molto spesso faccio scambi molto spesso mi riconoscono e quindi magari mi fanno i trattamenti di favore e per me non ha senso dire vantarmi o dire questo l'ho pagato pochissimo non è che sono bravo non è che sono forte non è che sono un fenomeno semplicemente sono dell'ambiente e quindi per me è anche più facile trovare determinate cose e magari riuscire a risparmiare qualcosina quello che vi posso dire però è che un evento come il game vintage market se ci vado io o ci va chiunque altro se uno c'ha la pazienza di mettersi là a cercare e contrattare sicuramente escono fuori delle robe sempre interessanti però voglio appunto che il focus non sia il non sapete quanto ho speso non sapete quanto ho risparmiato eccetera eccetera ma più che altro che bello ho trovato queste cose e sono riuscito a mettermelo in collezione per me questa è la cosa più importante vorrei che se ne ritornasse un po' a parlare del perché si prendono queste cose e non del quanto valgono che è una cosa che mi ha rotto proprio il cazzo scusate la franchezza e quindi niente sarà un video un po' diverso dal solito però vi assicuro che ci sono dei recuperi assurdi sia per quanto riguarda roba playstation che soprattutto nintendo c'ho delle bombe fuori parametro e si parla di roba gamecube soprattutto ok se siamo capiti e non solo però se siamo capiti aspettatevi per insomma appunto almeno un tg poro e almeno questo video proprio adesso polpetta mi sta assaltando ve la faccio vedere così siete anche felici almeno chi può chi può vederla e niente io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo spero che questo porocast vi abbia intrattenuto in un modo o nell'altro vi abbia svoltato o alleggerito la domenica e niente aspettatevi non vi dico che sarà un appuntamento fisso però vi ripeto io sto tranquillo sono felice e soprattutto per ora ho energie quindi mi piace fare un po' il punto della situazione e quindi magari il fine settimana aspettatevi di trovare queste chiacchierate che serviranno insomma così a vederci un po' di più grazie a tutti quanti ragazzi e anzi poracci noi ci vediamo domani probabilmente sapete dove trovarmi datemi datemi i sordi grazie ad oggi retro games ora metto pausa e vado a vedere se ho sbagliato l'intra ciao a tutti ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa grazie a tutti